visitazione della beata vergine maria fra i principali eventi della vita della vergine c'è la visita che maria fece alla cugina elisabetta in attesa del battista maria rimase presso elisabetta fino alla nascita di giovanni battista ed attese altri otto giorni per il rito dell'imposizione del nome sembra che l'origine di questa festa sia da attribuire ai frati minori francescani e al loro santo bonaventura da bagno reggio la festa della visitazione era fissata al 2 luglio ottava della nascita del precursore ossia il 24 giugno al termine della visita di maria il sinodo di basilea nella sessione del primo luglio 1441 confermò la festività l'attuale calendario liturgico fissa la memoria all'ultimo giorno di maggio a coronamento del mese dedicato alla vergine